Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Con i dati sulle elezioni, la corsa elettorale a Chieti sarà il ballottaggio in programma domenica 4 ottobre a far scegliere ai tietini il nuovo sindaco della città. Gli sfidanti sono Fabrizio Di Stefano, che ha ottenuto quasi il 39% dei voti, il candidato del centrodestra, e Diego Ferrara del centrosinistra, che ha raggiunto quasi il 22%. Si sono completate dunque le operazioni di scrutinio a Chieti, con il più votato, che, come detto, è stato Di Stefano, candidato appunto del centrodestra, con il 38,96% dei voti, 10.965 voti in termini assoluti. Secondo, con il 21,41%, pari a 6.027 voti, l'esponente del centrosinistra, Diego Ferrara. Terzo posto per il civico Bruno Di Iorio, con il 20,2%, pari a 5.684 voti. Poi troviamo Paolo De Cesare, al 12,68%, con 3.544 voti, mentre Luca Micone è al 6,84%, con 1.924 voti. Dunque, tra due domeniche, sarà ballottaggio tra Di Stefano e Ferrara, per decidere chi sarà il nuovo primo cittadino di Chieti. Ed è stato completato lo spoglio delle schede anche a Ravezzano, dove il più votato tra i candidati alla carica di sindaco è risultato essere Giovanni Di Pangrazio, che precede Tiziano Genovesi, fino all'ultimo insidiato da Mario Babbo. Anche qui, dunque, ci sarà ballottaggio domenica 4 ottobre per decidere il nuovo sindaco. Sono state scrutinate 46 sezioni su 48 del capoluogo marsicano. A sfidarsi tra due domeniche saranno Giovanni Di Pangrazio e Tiziano Genovesi. Questi voti dei candidati a sindaco finora emersi. Di Pangrazio, 7.780 preferenze, con il 32,74%, è stato il più votato. A seguire, Genovesi, con il 22,18%, pari a 5.204 voti. Di poco preceduto, Mario Babbo, 21,06%, con 4.940 preferenze. La candidata, Anna Maria Taccone, è al 16,25%, con 3.868 voti. Seguono Antonio Del Boccio, con 1.467 voti, pari al 6,25%, e Nicola Stornelli, fermo all'1,28%, con 300 preferenze. Dunque, domenica 4 ottobre da Vezzano sarà ballottaggio tra Di Pangrazio e Genovesi per scegliere il nuovo sindaco. Sono complessivamente 4.227 i casi positivi alla Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto all'altro ieri si sono registrati 18 nuovi casi di età compresa tra i 16 e i 79 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 475 nel numero dei casi positivi. Sono compresi anche i 3.010 i pazienti dimessi o guariti, 5 in più rispetto all'altro ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 2.990 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test di seguito. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 742, 13 in più rispetto a due giorni fa, 54 pazienti, 4 in meno rispetto all'altro ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 numero invariato, sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 683 sono 7 in più rispetto all'altro ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Consideriamo intollerabile la decisione da parte dell'azienda Yokohama di procedere con il licenziamento collettivo degli 84 dipendenti e di non accedere alla cassa integrazione Covid come proposto dal governo. Così in una nota congiunta dice la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde insieme alla sottosegretaria al Ministero del Lavoro, Francesca Puglisi. Contestiamo, scrivono le due, la decisione unilaterale dell'azienda che con questa immotivata presa di posizione non tutela i livelli occupazionali nella delicata fase di cessione dell'azienda che rischia di diventare così una mera operazione immobiliare. In questo modo, continuano le sottosegretarie, si chiude la porta in faccia a qualsiasi possibile supporto del governo nella trattativa di cessione o possibile intervento a supporto dello sviluppo anche per gli acquirenti e tutto torna in mano alla regione Abruzzo. Chiediamo quindi a Yokohama di non procedere al licenziamento collettivo e di utilizzare tutti gli strumenti che il nostro governo mette a disposizione, concludono le due sottosegretarie. La concessionaria strada dei parchi comunica che per urgenti lavori di manutenzione dalle 22 di oggi, 23 settembre alle 6 di domani mattina, sarà disposta la chiusura della tratta autostradale torno in parte l'Aquila Ovest. Conseguentemente, in questi orari, quindi dalle 22 di oggi alle 6 di domani mattina, per i veicoli provenienti da Roma a 25 diretti verso l'Aquila Teramo, sarà disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di torno in parte. Con mia viabilità alternativa, si consiglia di utilizzare la strada provinciale 1 a Miternina per Villa Grande e la strada statale 17 per l'Aquila. Alberto Contessi, Lucia, Piana, Mara, Nocilla e Davide Pezzuto sono gli autorevoli protagonisti dell'edizione 2020 di Tornareccio Regina di Miele, la rassegna dedicata al Nettere degli Dei, così veniva chiamato anticamente, che si svolgerà nella capitale abruzzese del Miele, nonché socio fondatore della città del Miele, sabato 26 e domenica 27 settembre. Promossa dalla comune di Tornareccio in collaborazione con la Proloco Regina di Miele 2020, sarà una special edition, cioè un'edizione speciale, per via delle disposizioni anti-Covid. Infatti, i due giorni saranno diversi da quelli degli altri anni, con un'attenzione particolare alla sicurezza, ma non per questo meno coinvolgenti. Se da un lato non ci sarà il tradizionale percorso espositivo nel centro storico, dall'altro sono in programma appuntamenti considerati di grande qualità e pensati per narrare la Miele di Tornareccio e quello abruzzese, vere eccellenze nel panorama gastronomico nazionale, espressione di un'apicoltura che sa farsi apprezzare per esperienza e innovazione. L'apertura della rassegna è in programma sabato alle 21 in Piazza Fontana. Oggi è mercoledì 23 settembre, la Chiesa celebra la memoria di San Pio da Pietrelcina, sacerdote. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino a metà mattino, nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali, molto nuvoloso nel primo pomeriggio, coperto nell'arresto del pomeriggio e molto nuvoloso in serata con temperature da 22 a 27 gradi e venti da deboli a moderati e nelle zone interne cielo nuvoloso fino alle ore centrali, coperto nel pomeriggio e nelle prime ore della sera e molto nuvoloso in tarda serata con temperature da 20 a 26 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto quasi calmo. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa diocesana di Pescara Penne, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie per averci seguito.